che invasero molti dei territori circostanti. Nel territorio io guiderò la Mazda 2 Skyactiv, un'auto compatta di colore rosso rubile, per un tuffo in un vero paradiso marino. Aesaggio aspro e selvaggio. Queste le parole usate dal filosofo Giovanni Battista, uso il nome del grande filosofo del Seicento, Giovanni Battista Vico. È qui che ha elaborato il suo pensiero, Vico, vero? Sì, lui in questo castello ha trovato non solo la salute, perché noi siamo la nostra storia, lei è la storia del suo ambiente, dei suoi genitori, dei suoi nonni, e se lei non sa chi è, non risponde alla domanda di Parmenide, che cos'è l'essere? L'essere è la nostra storia. ...e a cinque rapporti, accoppiato ad una frizione lento, a favore dei consumi. La Mazda Skyactiv ha un'aria cattiva, con questa mascherina anteriore, il retro è più normale, e già che ci sono do un'occhiata al bagagliaio. Beh... All'interno è questo display che proietta alcune informazioni di guida sul parabrezza. Poi... ...e a cinque rapporti, riconferma l'importanza ambientale di quest'area marina. ... ... ... ... ... Grazie a tutti.